Tragico incidente stradale mortale attorno alle 16.30 sulla statale 125 nei pressi di Capo Comino. Un 17enne originario di Siniscola, Francesco Pau, figlio di Lorenzo, ex sindaco della cittadina baroniese, è deceduto dopo che la moto su cui viaggiava, per causa in corso di accertamento, ha impattato frontalmente contro un camper. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ragazzo e ha allertato l'elisoccorso, ma per il 17enne purtroppo non c'è stato niente da fare. Francesco Pau è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. La polizia di Stato di Siniscola ha eseguito i rilievi di legge e sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. I figli del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada.